Ciao ragazzi, io sono Stefano Noardi, istruttore di Muay Thai tradizionale e Krabi Krabong. Oggi parleremo di Krabi Krabong armato, in particolare come eseguire un volteggio. I volteggi appunto sono degli esercizi che servono a prendere confidenza con l'arma utilizzata. Può essere bastone corto, lungo, lancia, spada, scudo e tutte le varie armi bianche delle Krabi Krabong tradizionali. Quindi dalla nostra posizione sempre Sam Lian, basata quindi sul triangolo isoscio e rettangolo, prendiamo un bastone della lunghezza di circa 90 cm che simula appunto una sciabola tailandese Dab. Da questa posizione andremo a disegnare un 8, un ipotetico 8 davanti a noi, tenendo il braccio più teso possibile. Da qui, così. Quindi, disegneremo appunto l'8 in avanti oppure l'indietro. Questo esercizio serve appunto a prendere confidenza quindi con l'arma utilizzata ed anche per sciogliere il nostro polso. L'importante è tenere il braccio appunto teso e non fare questo movimento. Puede essere sbagliato, ma braccio teso quasi fermo, dobbiamo muovere quasi esclusivamente il polso. Prima destro e poi sinistro. Facciamo quindi eseguirlo anche in una posizione neutra, quindi con le gambe parallele. In questo modo, quindi di lato, oppure in avanti. In avanti e indietro. Destro e poi sinistro. Possiamo fare quel cambio guardia. All'inizio sentirete il polso un po' scricchiolare, che è normale se non siete abituati a questo movimento. Farete fatica anche a girarlo, quindi girerete molto il braccio. Un po' alla volta il corpo si abituerà al movimento, per osmose appunto, e inizierete a farlo molto più fluido. Ideale sarebbe farlo, appunto, eseguire questo esercizio davanti allo specchio, in modo da avere subito un feedback se il movimento è corretto o no. Se avete domande, vi consiglio sempre di visitare il mio sito internet www.stafanoardi.it Contattarti tramite i miei social Facebook, Instagram e YouTube. E buon allenamento!